Tutti fuori, c'è l'arrivo, tutti fuori, ragazzi devono arrivare, ragazzi fuori, vince Mario Romana, fenomenale. Arriva un incredibile Bosi, arriva Bosi, fantastico. Grandissimi, Riccardo Piacenza, alto al quarto. Buona, tío, muy buena, te la mereces? Muy buena. Roman Gervis, è arrivato Bosi, arriva il due, Stisdale, si ha visto tra Bosi e Stisdale, occhio. Stisdale, quindi Bosi quarto, Bosi quarto, incredibile, e Nicoletti e gli altri. Ragazzi dovete dare spazio agli altri, incredibile, finale, re Mario Romana. Una furia, una furia, Mario, Mario. Veramente contento, è la prima volta che vengo qua, è una vittoria molto speciale perché c'è la mia famiglia, la mia amorosa, tutti gli amici, anche gli italiani, siete come la mia famiglia che vi parlo come voi. Allora, molto contento, grazie a Fasola e a tutta la mia famiglia per il bel lavoro e grazie mille, sono veramente contento. Grandissimo, ma qui ora nel Indora hai fatto paura, l'hai doppiato di tutti, sei stato un drago. Sai che fino alla fine non hai vinto mai, sono arrivato dopo due ore prima, ma fino adesso non ero contento abbastanza, allora ho spinto fino alla fine. Beh, ma ora hai fatto veramente un finale da paura, grandissimo. Ah, c'è la telecamera. Grande applauso Mario Romana! Super Mario Romana! Fenomenale! Da dove vieni? Da Madrid, la Spagna. Da Madrid, la capitale. La plazza del Toro, grandissimo. Grazie, grazie ragazzi. Grazie per il tifo a tutti. E' stato fortissimo. Come si facevano a fare il tifo? Sì, ma altrimenti gli italiani sempre siete i primi a fare il tifo. Siamo i primi a fare il tifo? Grande Roma, dove è? Alla premiazione. Così, dove sei? La tiene lui, che no? Così! Grazie a Derego. Questo lo diamo, tieni qua, sì. Vai, la tengo io. No, questo è davvero. Hai fatto paura, hai fatto. Sì, perché... E However... Allora... ho gesto ma mi me lo grava non lo paga di nada non so, ha fatto prima un'intervista